E tra qualche giorno ad Andria cambierà la viabilità a causa della chiusura del passaggio a livello di Viale Gramsci per i lavori dell'interramento ferroviario. Allora scopriamo nel servizio di Luca Ciciriello quali saranno le novità. Cambierà la viabilità in zona monumento ai caduti ad Andria, variazioni temporanee e che si renderanno necessarie in seguito ai lavori di interramento ferroviario e con la chiusura del passaggio a livello di Viale Gramsci, prevista per i primi giorni di maggio, fa sapere l'assessore alla mobilità pasquale Colasuonno. Prima importante modifica, si aprirà un varco, pedonale e veicolare, tra via 24 Maggio e via Bruno Bozzi. Accanto a questo sarà realizzato un altro varco, solo pedonale, sempre tra via Militegnoto e via Bruno Bozzi. Seconda variazione, in via Martiri di Cefalonia, che per intenderci è la via che collega il passaggio a livello di Viale Gramsci con il semaforo in corrispondenza dell'ingresso della scuola vaccina, sarà soppressa la corsia riservata a bus, forze dell'ordine e ambulanze. Saranno istituite, infatti, due corsie di marcia con lo stesso senso. Le auto sulla corsia di destra avranno l'obbligo di procedere dritto verso Corso Cavour. Quelle sulla corsia sinistra svolteranno a sinistra verso via Leistria. Terza modifica, da via 24 Maggio si potrà svoltare a destra verso via Militegnoto, ma si proseguirà sino a via Isonzo. Sarà perciò necessaria la svolta nuovamente a destra. Sempre in via Militegnoto, invece, nel senso contrario, quindi direzione da via Asiago, gli automobilisti saranno obbligati a svoltare a sinistra verso via Isonzo. Non si potrà proseguire verso via Padre Nicolò Vaccina. Ancora, chi attraverserà il nuovo varco provenendo da via 24 Maggio, se in transito sulla corsia destra, avrà l'obbligo di svoltare a destra su via Bruno Buozzi con direzione. Via Maraldo, se in transito sulla corsia centrale, avrà l'obbligo di svoltare a sinistra su via Bruno Buozzi con direzione via Legramci. Infine, chi attraverserà il nuovo varco provenendo da via Bruno Buozzi, se in transito sulla corsia sinistra, avrà l'obbligo di svoltare a sinistra su via Militegnoto con direzione via Isonzo. Se in transito sulla corsia destra, invece, avrà l'obbligo di svoltare a destra su via Militegnoto con direzione via Martiri di Cefalonia e via Padre Nicolò Vaccina. Su via 24 Maggio, inoltre, sarà eliminata la corsia dei parcheggi e ne sarà creata un'altra riservata a mezzi di soccorso e ambulanze che da via Bruno Buozzi sono diretti all'ospedale Bonomo. Fermere stando tutte le modifiche sin cui descritte, l'amministrazione comunale fa sapere che sarà realizzata una mini-rotatoria sperimentale con circolazione anti-oraria al centro del nuovo varco tra via 24 Maggio, via Militegnoto e via Bruno Buozzi.